Come secondo esempio di verifica del limite, abbiamo il limite per x che tende a più infinito di 1 meno x al quadrato fratto 2 più x uguale meno infinito. Prima di partire per la verifica di questo limite, vediamo, come abbiamo fatto un esempio precedente, cosa significa e anche una giustificazione grafica di quello che andiamo a scrivere. Allora, siamo nel caso limite per x che tende a più infinito di f di x uguale meno infinito. Cosa significa questo? Significa che comunque fissato un m appartenente ai numeri reali, io suppongo senza perdita di generalità, positivo, esiste un k, anch'esso appartenente ai numeri reali, tale che la funzione f di x è sempre minore o uguale a meno m per qualsiasi x maggiore o uguale a k. Allora, graficamente siamo in questa situazione, vediamo di disegnare gli assi e capire cosa succede. La funzione può fare una cosa del genere, passare un o per lo 0, adesso casualmente mi è venuta passando per lo 0. Comunque la definizione dice che fissato, comunque fissato un m, in questo caso nostro meno m, ho supposto che sia negativo, esiste un k tale che la funzione f di x è sempre maggiore, è sempre in questo caso minore di meno m, per qualsiasi x maggiore o uguale a k. E questa è la situazione, questa è la nostra f di x. E quindi, tornando alla verifica del limite, sappiamo che verificare il limite significa scrivere questa disequazione qua, risolverla e verificare appunto che ci troviamo, per quanto riguarda la x, in intorno di più infinito. Allora, quindi dobbiamo risolvere la seguente disequazione, 1 meno x al quadrato fratto 2 più x minore uguale a meno m. Questo significa fare il minimo comune multiplo, portare il meno m al primo membro e scrivere denominatore 2 più x, numeratore 1 meno x quadrato più m che moltiplica 2 più x minore uguale a 0. Ora, moltiplico entrambi i membri per meno 1 e ordino, anzi no, facciamo prima il passaggio della moltiplicazione di m per 2 più x e quindi otteniamo 1 meno x al quadrato più 2m più mx fratto 2 più x minore uguale a 0. Ora possiamo moltiplicare per meno 1 e ordinare secondo le potenze decrescenti di x. Ricordo che se moltiplichiamo i membri per meno 1 va girato il verso della disequazione e quindi in definitiva otteniamo la disequazione x al quadrato meno mx meno 2m meno 1 fratto 2 più x a questo punto per studiare il segno di questa disequazione fratta possiamo considerare separatamente il numeratore e il denominatore e studiare la positività. Allora, a numeratore abbiamo un trinomio di secondo grado con il parametro m e quindi come prima cosa dobbiamo trovare le radici associate al trinomio di meno grado e usando la formula risolutiva per quanto riguarda il trinomio di secondo grado possiamo scrivere che x1,2 cioè le due radici sono m, quindi meno b vi ricordo che questo è il coefficiente del termine di primo grado questo qua che non si vede è il coefficiente del termine di x al quadrato e questo, tutto questo è c, cioè il termine noto quindi meno b, quindi m più e meno la radice quadrata di b quadro quindi meno m al quadrato è m al quadrato meno 4 volte a c ma siccome c è globalmente negativo moltiplicandolo per meno 1 otteniamo tutti i segni positivi quindi 4 che moltiplica 2m più 1 fratto 2 volte a, cioè 2 ora dalla teoria sappiamo che per quanto riguarda un trinomio di secondo grado se il coefficiente di termine di secondo grado cioè di x quadro è positivo il trinomio è positivo per valori esterni alle radici che sono x1 e x2 andiamo a scriverlo qua quindi il numeratore è positivo quando x è minore o uguale alla radice più piccola che è m meno radice quadrata di m al quadrato più 8m più 4 fratto 2 e x maggiore o uguale alla radice più grande e quindi m più radice quadrata di m al quadrato più 8m più 4 fratto 2 e questo per quanto riguarda il numeratore il denominatore è positivo strettamente quando 2 più x è maggiore di 0 cioè x maggiore di meno 2 ora per capire come posizionare rispetto a meno 2 le radici x con 1 e x con 2 del trinomio a numeratore bisogna risolvere un'altra disequazione in questo caso io siccome x con 1 è minore di x con 2 cioè ci troviamo in questa situazione x con 1 allora intanto scriviamo sì possiamo scrivere x con 1 minore di x con 2 risolvendo la seguente disequazione cioè x con 1 maggiore di meno 2 riesco a capire come posizionare appunto come dicevo le radici sia il numeratore che il denominatore sulla retta orientata e quindi poi capire gli intervalli di positività e negatività prima di numeratore e denominatore e poi della frazione totale allora devo scrivere questa disequazione se questa disequazione viene che la disequazione è questa se questa disequazione viene verificata allora sappiamo che meno 2 è a sinistra di entrambe le radici del trinomio a numeratore quindi x con 1 è m mezzi meno linea di frazione radice quadrata di m al quadrato più 8m più 4 fratto 2 maggiore di meno 2 ora trasportando al primo membro il meno 2 otteniamo m fratto 2 più 2 maggiore portiamo al secondo membro il termine con la radice ovviamente cambiando di segno quando si sposta da un membro all'altro m al quadrato più 8m più 4 fratto 2 ricordo che stiamo lavorando nell'ipotesi che m sia maggiore di 0 a questo punto posso elevare elevare ambo i membri al quadrato e quindi m al quadrato quarti devo fare il quadrato di questo binomio stiamo facendo ora questa operazione qua doppio prodotto fra il primo e il secondo termine è 2m quindi più 2m e il quadrato del secondo più 4 questo è maggiore di m al quadrato quarti prima quando elevo tolgo la radice e il 2 al denominatore diventa 4 più sarebbe 8m diviso 4 8 diviso 4 fa 2 quindi rimane 2m e 4 diviso 4 fa 1 e quindi rimane più 1 ora m al quadrato quarti e m al quadrato quarti si elidono 2m e 2m si elidono e quindi la disequazione produce che 4 è maggiore di 1 e quindi ok la verifica è fatta quindi meno 2 è a destra scusate a sinistra di entrambe le radici del trinomio a numeratore ora possiamo fare il grafico del segno meno 2 lo posizioniamo qua m mezzi meno permettetemi di scrivere solo la radice così della prima della radice più piccola e m mezzi più stessa cosa faccio qui la radice fratto 2 ora numeratore denominatore e frazione numeratore positivo per valori esterni alle radici quindi la situazione è questa denominatore positivo quando x è maggiore di meno 2 e in definitiva la frazione è negativa per x minore meno 2 positiva per x compreso tra meno 2 la radice più piccola negativa nell'intervallo compreso tra le due radici e positiva per x maggiore della radice più grande del numeratore la disequazione ci chiedeva la positività dobbiamo andare a guardare qui e quindi in particolare la disequazione è soddisfatta nell'intervallo che è quello che ci interessa a noi per la verifica del limite quando x appartiene all'intervallo m mezzi più la radice mezzi è più infinito essendo questo un intorno di più infinito il limite è verificato grazie a tutti e alla prossima grazie a tutti Grazie a tutti.